E ciao a tutti ragazzi e bentornati sulla Depth of Fear Call Allora, nello scorso episodio abbiamo fatto il dungeon, quello lì della jungla che meh, da venne ha trovato la quarta intersezione Sempre se era la quarta, la quarta, la quarta, ok E invece oggi facciamo il dungeon Into the Fire Perché era l'unico dungeon che ci mancava in questa intersezione E poi andremo alla prossima e trasferire tutto il poco che c'è Allora, mi è difficile premere il tasto destro con questo mouse Perché l'avevo appena rimesso le pile e se eravamo scaricato Perché se io ho un mouse wireless, servono le pile Quindi ok, è a posto Intanto voglio dire una cosa Non è che si vede tipo la lava della vita Sì Sì, tantissimo Voglio capire cos'è questa cosa Non è che si è stende per disuonare Di scavare Vedete di cosa vi parlavo? Ok, ci siamo arrivati A questa torre maledetta Non so cosa sia ho perso un blocco ma fa niente posso dire andiamo ad entrare all'interno sembra esserci è vuota dentro prego ho bisogno di blocchi ok 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 no non è calma scherzando non è cava mai nella vita nessuno scende tantissimo scende c'è un bordello quanto cazzo vieni che ti faccio il culetto non è vero quattro colpiti ci vogliono chi cazzo sei ok 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 proviamoci yolo yolo cazzo non arrivino da dietro infatti stavano arrivando da dietro quanti siete quanti siete i la strega mi ha lanciato il danno eccola no no via 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 strega via via strega via vengono terrorite di vengono 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 , è ok! Io! 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 dobbiamo questa volta! ваш perché vi ho notato! Giù, io l race! se non importa niente dovevano andare usciamoli non è che fai altro ferro carbone e questo uno si tanta gente mmm che mi lo spingono cazzo io la redblades è schifoso ma muori male non so oddio non so ma non so non so non so non so devo andare io vado a caso piazzare gli occhi inutili lana lana che benessere non ha una sensazione di benessere tuttavia si poteva arrivare solo tramite gray moon mamma mia se è stata difficile sono morto 57 volte rimuogli ancora avete giustamente aggiungere che era sempre bloccato incredibile c'è la nostra ender chest noi ci mettiamo con una nuova intersezione nella carta di tablet delle belle cestoline ok non c'è niente mi posso buttare tranquillamente l'alba e mi sono dimenticato di disponere il letto ci torno in creative ragazzi e vi lo faccio anche vedere allora facciamo sono un coglione perché non ho dormito sono veramente un idiota merda perché non ho dormito allora era qua spider's den ed era esattamente qua dai forza su allora non posso salire sulla identità non posso salire non posso salire ok allora io ragazzi direi che per questo episodio è tutto dormite vi ringrazio per aver visto ci vediamo al prossimo episodio lasciate un mi piace commento, condividetevi, iscrivetevi e ciao a tutti